Bene, cari amici, siamo il 26 luglio del 2016. Con il nostro amico Agostino abbiamo pensato oggi di fare una camminata, come si dice, una passeggiata e siamo proprio sulla strada che ci porta a Folgaria, nel Trentino. Ci siamo fermati perché qui abbiamo visto in questa curva che c'è uno stupendo paesaggio. Vi facciamo vedere allora questo verde, in questa giornata veramente di sole e di gioia per noi e per tutti voi. Allora abbiamo la gioia di poter da questo luogo salutare tutti gli amici del santuario. Io ricordo in particolare padre Renato, la Luigina, tutti i padri stimatini di San Leonardo. Ecco, ma in particolare abbiamo qui il nostro carissimo amico Agostino, lui è l'autista. Allora quanto manca più o meno per arrivare in Folgaria? Ancora 5-6 km penso. 5-6 km. E speriamo di trovare anche, noi siamo alla ricerca sempre di qualche chiesa, di qualche piccolo santuario. Lo troveremo, lo troveremo. Ecco, perché noi veniamo dal santuario della Madonna di Lourdes di Verona. Ma c'è Agostino che vuole in particolare fare un saluto particolare a una persona. Chi vorresti ricordare e salutare? Salutiamo naturalmente il caro nostro amico Attilio, che naturalmente starà riposando nella sua stazione di servizio, mentre noi qua siamo in paradiso. Insieme con Attilio e anche la Stefania. Pensate che Attilio e la Stefania sono sempre vicino ad Agostino quando lui suona, accompagna i canti nel santuario della Madonna di Lourdes. Allora è giusto ricordare carissimo Attilio e carissima Stefania. Da questo luogo vi salutiamo. Un abbraccio carissimo a voi e a tutti gli amici del santuario della Madonna di Lourdes. Ciao.